Ciao a tutti, questo è il nostro messaggio. La città di Torino ha tanti spazi dedicati alla ricreazione e all'aggregazione. Noi vorremmo che i murazzi, nel valore della riqualitica, non perdano l'identità che ne ha resi popolari e unici. Spazio di divertimento e di serata con gli amici e con la musica, offrendo l'opportunità a darci, ad esempio, di sviluppare il concetto nel modo che noi ragazzi piacciono. Grazie.